5.940.000 euro circa è questa la cifra del finanziamento ottenuto dal libero consorzio comunale di Caltanissetta attraverso il decreto ponti destinato alle province e città metropolitane per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di competenza. La risorsa distribuita in tre annualità prevede il finanziamento di diverse opere cioè la messa in sicurezza adeguamento strutturale di diversi ponti sulle strade provinciali 123, 50, 12, 169, 193, 133 strada provinciale 49A nonché servizi di indagini diagnostiche prove di laboratorio su terra e materiali di costruzione afferenti manufatti costituenti ponti dell'area centro nord e centro sud. Il programma triennale presentato dal libero consorzio comunale di Caltanissetta è stato così interamente approvato e ottenuto il finanziamento si legge nella nota inviata dal commissario straordinario dell'ex provincia e le risorse messe a disposizione dallo Stato sono veramente considerevoli e di grande importanza per garantire al territorio provinciale una viabilità sempre più sicura aggiunge il commissario Longi nella consapevolezza che i ponti e i viadotti sono punti molto sensibili al rischio della rete viaria e i lavori che saranno eseguiti rappresenteranno un vero tocca sana per le strade provinciali. A queste cifre finanziate si sommano anche 4 milioni di euro destinati alle opere di manutenzione approvate a fine 2021 e che appartengono alle risorse finanziere del bilancio del libero consorzio comunale nisseno. Oltre alle somme messe a disposizione dal governatore Musumeci attraverso l'accordo quadro tra l'ufficio del genio civile di Caltanissetta e il libero consorzio comunale per la messa in sicurezza delle strade provinciali facendo fronte alle frane e per il rifacimento del manto stradale che riguardano le strade provinciali 16, 37, 23, 24, 175, 195, 196, strada provinciale 12 con il bypass e ancora strade provinciali 26 e 38 per entrambe due interventi di cui uno in sommorgenza. Sarebbe anche pronto il progetto della strada provinciale 8 a Butera che dovrà poi andare in conferenza dei servizi. Le strade provinciali dunque verranno interessate da numerosi interventi oltre a quelli ceffettuati in sommorgenza dal libero consorzio circa 50 nel periodo delle piogge intense. Il commissario inoltre sta predisponendo una nota per tutti i sindaci, si legge ancora, per una maggiore vigilanza sui frontisti e sulle tecniche inappropriate di aratura dei terreni prospicenti le strade provinciali che sono la causa dello sversamento di fanghi nelle sedi stradali. E ancora finanziamenti anche dalla Regione per interventi sulle strade provinciali ed in particolare strada provinciale 1, 2, 42, 43, 48, ulteriore intervento sulla strada provinciale 8, strada provinciale 203 bis, 211, 151, 20, 103 e le opere di compensazione ANAS sulla strada provinciale 153, strada provinciale 4, 133, 127. Si prevedono poi ulteriori risorse nel corso dell'anno. Il governo regionale presieduto dal governatore Musumeci si precisa ancora nella nota in conclusione farà fronte con altri importanti finanziamenti attraverso l'Ufficio del Genio Civile e quello per il dissesto idrogeologico in Sicilia di cui è commissario. Grazie.